Musica Vasta operazione militare di Israele, la Cisgiordania è in fiamme, Tel Aviv apre la possibilità di vaccinazioni a Gaza, sull'altro fronte in Ucraina, pioggia di droni russi, gelo di Mosca sul piano di pace di Zelensky. Il caso Verzeni, gli investigatori lavorano senza sosta per trovare altri elementi che permettano di individuare l'assassino della 33enne, si cerca l'arma del delitto. La festa dello sport senza barriere, con le Paralimpiadi inaugurate ieri a Parigi, ad applaudire la squadra italiana anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Buongiorno a tutti e benvenuti a TG2000 edizione delle 12. In primo piano dunque l'imponente operazione dell'esercito israeliano in Cisgiordania, a villaggi evacuati, circondato l'ospedale di Jenin, minacciata l'irruzione alla ricerca di miliziani di Hamas. L'ONU condanna tale operazione, Hamas chiede la ripresa degli attentati suicidi. Intanto Israele, dopo i casi di poliomerite, apre alle vaccinazioni nella striscia. Sentiamo Paolo Fucili. La tregua per Gaza è lontana. La guerra rischia anzi di allargarsi ancora dopo la più massiccia operazione militare in Cisgiordania, lanciata ieri da Israele dall'inizio del conflitto 11 mesi fa. Dei 12 morti palestinesi citati dalle autorità locali, 5 sono stati uccisi dentro una moschea a Tulcarem. Uno di loro, riportano da Tel Aviv, era Muhammad Eiyabber, capo di una rete di combattenti nel campo profughi di Nur Shams. Il segretario Ono Guterres chiede a Israele lo stop immediato a qualsiasi intervento armato nella West Bank. L'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli esteri, Borrell, propone sanzioni per i ministri israeliani che con i loro messaggi di odio fomentano crimini di guerra e definisce inaccettabile l'ipotesi prospettata dal ministro degli esteri israeliano, Israel Kats, di evacuazioni di massa di civili anche in Cisgiordania, come a Gaza, dove l'agonia della popolazione continua fra combattimenti, fame, penuria di qualsiasi bene essenziale e dopo i proiettili di soldati israeliani che hanno centrato un suo automezzo, il programma alimentare mondiale ha sospeso ogni movimento. Intanto, anche se non è una tregua precisa l'ufficio del primo ministro Netanyahu, Israele ha approvato la designazione di alcuni punti a Gaza per le vaccinazioni contro la poliomielite, ricomparsa nella striscia dopo ben 25 anni. Andiamo ora sull'altro fronte, quell'ucraino, nella notte raffica di droni russi, su numerose regioni del paese, segnala l'aeronautica militare di Kiev, gelo di Mosca sul piano di pace che il presidente Zelensky intende presentare agli Stati Uniti. Sentiamo Antonella Mazzateruel. A 30 mesi dall'invasione russa non c'è traccia di pace nell'est Europa e gli alleati dell'Ucraina spingono anzi l'acceleratore nel conflitto. Ieri è stato il segretario uscente della Nato, James Stoltenberg, ad annunciare la necessità di inviare maggiori aiuti militari e oggi a Bruxelles, nella riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione, l'alto rappresentante, Josef Borrell, ha sostenuto pubblicamente che occorre rimuovere le restrizioni delle armi contro obiettivi militari russi, che significa in pratica autorizzare Kiev ad usare ordigni di difesa forniti dall'Europa per l'attacco. Per quanto riguarda l'uso delle armi italiane, può avvenire solo all'interno dell'Ucraina, ma ogni paese decide per sé, ha risposto il ministro degli esteri, Antonio Tajani. Presente all'incontro l'omologo ucraino Dimitro Kuleba, che ha lamentato ritardi nella consegna di armi e ora vuole anche missili per colpire in territorio nemico, sicuro di poter sconfiggere Mosca senza paura di un escalation. La tema, invece, è fortemente l'Ungheria, che in posizione minoritaria in Europa continua a sostenere la necessità di porre fine alla guerra. Intanto avanza il pericolo nucleare. Il direttore dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, IEA, Rafael Grossi, riferisce di una grave situazione dopo aver visitato la centrale di Kursk nella Federazione Russa. L'area è sotto attacco ucraino e questa mattina, nella regione confinante di Belgorod, è stata presa di mira la città di Sebekino, mentre i russi hanno colpito Kiev con droni per diverse ore e controllano circa il 40% della città chiave di Chasiv-Yarnel-Donetsk, affermano gli ucraini, che ammettono che pure nella strategica città orientale di Pokrovsk la situazione è estremamente difficile. Caso Durov, il fondatore di Telegram, è indagato in Francia anche per gravi violenze contro il figlio. Lo sviluppo è emerso dopo che il multimiliardario è stato messo in libertà condizionale dal Tribunale di Parigi, dietro una cauzione di 5 milioni di euro. Dovrà rispondere di 12 capi di imputazione. Veniamo in Italia con la politica a vertice di maggioranza stamani in vista del Consiglio dei Ministri, mentre resta aperta la partita europea. Il Governo cerca alleanze per ottenere una vicepresidenza di peso. Sentiamo Silvia Ciuffolini. A pochi giorni dal rientro dalle vacanze, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha le prese con il primo dei dossier in scadenza, indicare il nome del commissario italiano che farà parte del nuovo esecutivo europeo guidato per la seconda volta da Ursula von der Leyen. Che sia il Ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, il candidato in pectore, è ormai fuori di dubbio. Ma la partita è molto più complessa. Il nostro Governo, infatti, punta ad ottenere una delega di peso e soprattutto una vicepresidenza. Una posizione che garantirebbe all'Italia una maggiore influenza e un ruolo centrale nelle dinamiche europee. Tra gli alleati del nostro Paese c'è il leader del Partito Popolare europeo, Manfred Weber, che ieri in visita a Roma ha incontrato prima Fitto, poi la Premier Meloni, un faccio a faccio ha durato quasi due ore, e in serata il Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Per me è impossibile ignorare o isolare l'Italia, ha spiegato Weber. È un paese centrale in Europa, uno dei padri fondatori. In Italia c'è una popolazione pro-europea, non c'è nessun partito che vuole uscire dall'euro come invece in altri paesi. Lavorerò sempre per includere l'Italia nel processo delle decisioni, ha aggiunto. Il numero uno del PPE ha avuto parole di apprezzamento anche per Fitto. È un mio ottimo amico, è un forte difensore degli interessi dell'Italia. E domani la designazione ufficiale durante il Consiglio dei Ministri, previsto nel pomeriggio. Ricordato oggi a Palermo l'imprenditore Libero Grassi, ucciso 33 anni fa dalla mafia per non aver pagato il pizzo, i figli Davide e Alice Grassi insieme al nipote Alfredo in via Alfieri, hanno incollato alla perete il manifesto e verniciato di rosso il luogo dove è stato trovato morto l'imprenditore, ucciso alle 7.30 del mattino, mentre come tutte le mattine si recava al lavoro nell'azienda tessile Sigma. E non hanno ancora dato esito le ricerche dei due dispersi a Talanico, una frazione di San Felice a Cancello in provincia di Caserta. La macchina dei soccorsi è andata avanti tutta la notte e prosegue anche nelle attività senza sosta alla popolazione di Caserta Avellino, la solidarietà del Ministro dell'Interno, Piantedosi. L'omicidio, ora veniamo all'omicidio di Sharon Verzeni, mentre resta nell'ombra il volto dell'uomo in bicicletta, visto nelle immagini delle telecamere di sorveglianza, la notte dell'omicidio, stamane sono riprese le ricerche dell'arma del delitto. Sentiamo Erika Calvani. Ad un mese dall'omicidio, la morte di Sharon Verzeni non ha ancora né colpevole, né un'arma del delitto e neppure un movente. I carabinieri di Bergamo, affiancati dai volontari del Mure, Museo Recuperanti 1915-1918, continuano a cercare un coltello da cucina o un pugnale. Le operazioni di ricerca sono ripartite questa mattina dai campi dietro la villetta in cui la vittima abitava con il compagno Sergio Ruocco, dopo le ispezioni di ieri con metal detector nei tombini e nei laioli di via Castegnate e zone limitrofe, senza esito anche le operazioni nel torrente Buliga. Intanto continuano anche le ricerche dell'uomo in bicicletta. La persona ripresa quella notte dalle telecamere di sorveglianza, mentre sfrecciava a contromano sulla strada in cui è avvenuto l'omicidio. I carabinieri hanno un'ipotesi più che concreta sull'identità, ma l'uomo non è stato ancora rintracciato. Resta il giallo anche sul motivo per cui non si sia presentato spontaneamente per rilasciare una testimonianza. Gli inquirenti non escludono niente, neppure l'ipotesi che la vittima possa essere stata uccisa da una persona appartenente al sottobosco criminale del paese. Un abitante ha parlato ai carabinieri di un uomo con problemi con la giustizia che non si fa vedere da settimane. Due giorni fa Sergio Ruocco è tornato al lavoro, ma ribadisce la volontà di collaborare alle indagini. Resta sotto sequestro l'appartamento in cui viveva la coppia. Inoltre è stato denunciato per favoreggiamento personale il sosia di Johnny Depp. Si è rappresentato dai carabinieri sostenendo di avere informazioni utili alle indagini, ma in realtà si era inventato tutto solo per visibilità. Il tifone Shanshan Sferze è il sud del Giappone. Sono almeno tre le persone morte e una quarta risulta dispersa. Decine i feriti di cui due gravi. Il tifone ha portato piogge torrenziali e raffiche di vento. Oltre 250 chilometri orari. E le Nazioni Unite denunciano l'aggravarsi della situazione ad Haiti, nell'isola, in mano alle bande armate. Le più vulnerabili sono le persone che vivono negli sfollati. L'allarme è in particolare per le donne e i bambini, soprattutto nella capitale, in un contesto di violenza generalizzata, che non si attena. Ed ora voltiamo pagina con lo sport, perché ieri a Parigi si è accesa la festa delle Paralimpiadi con la cerimonia d'inaugurazione che ha colorato il cuore della capitale francese ad applaudire la delegazione azzurra anche il presidente della Repubblica, Mattarella. Sentiamo Federico Plotti. Parigi torna ad illuminarsi a poco più di due settimane dalla chiusura delle Olimpiadi. Ieri cerimonia di apertura sugli Champs-Élysées della diciassettesima edizione dei giochi paralimpici estivi. Oltre 4.400 gli atleti, in rappresentanza di 184 nazioni e delegazioni, hanno sfilato dall'Arco di Trionfo fino a Place de la Concorde. Poi musica, balli e spettacolo prima dell'accensione del Bracere. Spedizione italiana tra le più numerose e ambiziose, salutata dal presidente Mattarella. Ben 141 gli atleti, 70 uomini e 71 donne che dalla vasca alla pista di atletica, dai campi di gioco ai palazzetti, gareggeranno in 17 discipline su 22 alla ricerca di medaglie. Nella scorsa edizione a Tokyo l'Italia ne conquistò 69, 14 ori, 29 argenti e 26 bronzi. Ma a contendersi il medagliere saranno ancora una volta Gran Bretagna, Stati Uniti e Cina, con quest'ultima nettamente favorita. Tre anni fa salì più di 200 volte sul porto. Oggi prime gare, con diversi italiani impegnati nel tiro con l'arco, nel nuoto, nel ciclismo, nel badminton e nel tennis tavolo. Bene, l'Italia, gli US Open di tennis, 10 tennisti che hanno superato il primo turno. Non è andato però oltre il secondo turno. Matteo Berrettini, battuto da Taylor Frizza. Alle 18, ora italiana, torna il campo Sinner. E in campo anche Arnaldi, Cobolli, Bellucci e Paolini, Cocciaretto e Derrani. E si alza il sipario sulla mostra del cinema di Venezia. Pioggia di stelle sul tappeto rosso da Sigourney Weaver a Isabella Apera alla nostra Monica Bellucci. I momenti più emozionanti. Nel servizio di Fabio Falzone. Vediamo insieme. Il mio leone sarà accanto a me in aereo, sarà vicino a me nella gondola e mio marito si dovrà abituare ad averlo a letto con noi. Non abbandona la sua ironia di grande classe la superstar Sigourney Weaver che ieri sera ha ricevuto alla mostra Il leone d'oro alla carriera nel corso della cerimonia di apertura. Un leone che ha continuato a baciare, a bracciare, a condividere con il pubblico all'esterno del palazzo del cinema. segno di una passione comune per la settima arte. Lo stesso entusiasmo animato il tappeto rosso che ha preceduto la cerimonia di apertura ha attraversato dalle stelle e questa è davvero l'edizione delle stelle a cominciare dal film che ha inaugurato la mostra Beetlejuice, Beetlejuice diretto da Tim Burton. La più fotografata sicuramente Monica Bellucci tra i protagonisti della pellicola sia da sola che in compagnia del fidanzato e regista appunto Tim Burton. Ma il tappeto rosso è stato calcato da tutto il cast Gianni Ortega la rediviva Wynonna Ryder e ancora Michael Keaton e William Defoe. Bellissime, raffinatissime le espressioni di un cinema di qualità anche la presidente di giuria Isabelle Huppert che nel corso della cerimonia di apertura si è anche avventurata in un discorso nella nostra lingua come sempre intriso di passione per il cinema. E' di giro della mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Gran finale con l'augurio di Sigourney Weaver un in bocca al lupo per il cinema che in alcuni momenti ne ha davvero bisogno. L'augurio che il leone possa avere davvero la meglio su tutto. Crepi il lupo the lion of Venice will kill this wolf. E' stato ricomposto dopo 40 anni di ricerche e di restauro uno dei capolavori di Giorgio Vasari il soffitto dipinto per Palazzo Corne Spinelli a Venezia i pannelli che lo componevano erano stati dispersi a partire dalla fine del Settecento e oggi grazie all'impegno del Ministero dei beni culturali supportato anche da privati e benefattori il soffitto vasariano è tornato a risplendere nel luogo in cui era stato concepito. E' aperta all'Aquila nella serata di ieri la Porta Santa per la perdonanza celestiniana un momento di fede che si ripete da 730 anni occasione per il Cardinale Petrocchi che è stato arcivescovo dell'Aquila fino al 1 agosto quando si è avvicendato con Monsignor Antonio D'Angelo per salutare la comunità la Porta Santa verrà chiusa questa sera. Ed è tutto allora per questa edizione la prossima alle 14.55 ora vi lasciamo alle previsioni del tempo grazie per averci seguito buona giornata e buon pranzo a tutti a più tardi a più tardi a più tardi